Elisabetta Gregoraci è finita al centro del gossip in modo indiretto, la conduttrice di Battivi Live, mentre si trovava sul palco di Trani per effettuare le prove della prossima tappa, ha ricevuto una dedica area. Nel messaggio è apparsa una data con un orario e un ti amo, sui social, la diretta interessata non ha commentato e l'autore del gesto ha preferito rimanere anonimo. Elisabetta Gregoraci non ha commentato l'accaduto, ma si è mostrata entusiasta davanti al bel gesto ricevuto. L'autore, invece, ha preferito rimanere anonimo, al momento, non è chiaro cosa intenda dire il messaggio riportato nella dedica. Al vaglio ci sono varie ipotesi, potrebbe trattarsi di un evento alla quale parteciperà l'ex moglie di Flavio Briatore oppure potrebbe trattarsi di un incontro speciale. Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci riceve delle dediche aeree, la diretta interessata quando si trovava all'interno del grande fratello V-5, spesso riceveva messaggi d'amore. Stando ai rumor, ad inviarle era un giovane monegasco, ma il pettegolezzo di gossip è sempre rimasto tale. In una recente intervista, la 42enne calabrese ha confidato di essere alla ricerca dell'amore. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta ha avuto solamente una love story importante. Nell'intervista, Gregoraci si è domandata perché gli uomini spesso scappano da lei. Forse, avere un ex marito molto famoso può mettere in difficoltà. Durante la messa in onda di Battiti Live, la conduttrice, anziché chiamare Alvaro Soler ha cambiato erroneamente il cognome dell'artista con Soleil. Il piccolo inciampo della 42enne non è passato inosservato sui social, su Twitter. Alcuni utenti hanno criticato la conduttrice insinuando che non sappia fare nulla. A detta di altri, Elisabetta sarebbe una miracolata solo perché ha sposato un uomo molto famoso.